Ciao a tutte! Allora faccio questo video per chiarire alcune cose sul mio concorso, sul mio contest, visto che evidentemente non avevo specificato bene tutto. Allora, per prima cosa io avevo specificato nelle regole di aggiungere il video come video di risposta a quello del concorso. Molti di voi non l'hanno fatto e non ci hanno neanche provato perché non mi hanno detto... Cioè, se uno ci ha provato e non ci riesce, allora mi dice, guarda, non ci riesco e questo è un conto, ma non me l'hanno neanche detto, quindi non ci hanno proprio provato. Anzi, mi hanno detto, eh, se cerchi il mio video per il concorso devi scrivere questo... No, allora, voi me lo mettete come video di risposta e allora io ve lo accetto, se va bene ovviamente. Altrimenti, se non lo mettete come video di risposta io non lo conterò nemmeno. Seconda cosa, le creazioni, come avevo detto, devono seguire il tema del concorso. Che è una stagione. Appunto, avevo specificato, voi scegliete una stagione a vostra preferenza, appunto, e poi mettete le creazioni a tema. Ad esempio, se io scegliessi la primavera metterei cose floreali, eccetera. Se alcune, molte ragazze hanno scelto l'estate, infatti hanno messo dei gelatini, o ad esempio cos'era, rilacoma che mangiavo il gelato, non me lo ricordo bene. Comunque tutte cose molto carine che appunto c'entrano con l'estate, il gelato, le vacanze, queste cose qua. Se invece mi dite, scelgo la primavera, poi su dieci creazioni, due sono fiorellini, ok, vanno bene, ma tutte le altre sono cose che non c'entrano nulla, come le calecca o cupcake normalissimi, allora io non accetto il video. Se almeno dieci creazioni non sono a tema, io non lo accetto. Infatti mi è successo, purtroppo, di dover rifiutare qualche video. Se non seguite il tema, purtroppo io non lo accetto. Infine, questa cosa mi è stata molto sulle scatole, mi è capitato anche di essere presa in giro della serie. Io ho il primo video che mi è arrivato, io l'ho accettato senza guardare, dopo l'ho guardato. Ora non riesco più a cancellarlo tra i video di risposta, tra l'altro. Vabbè, tanto non è valido. E una ragazza mi ha fatto vedere delle creazioni che era evidente, che non erano fatte da lei, perché c'erano quei fiorellini di fimo, sono fatti di fimo ma li vendono. Sono di fimo come le cane, poi alla fine sono di fimo duri, già fatti, quei fiorellini sfumati, non so che fiori sono comunque, e si vede benissimo che non sono fatti a mano. Poi mi ha fatto vedere delle creazioni in plastica, perché si vedeva, avevano il di dietro tutto piatto rovinato, delle creazioni con solo delle perline che non c'entrano nulla col fimo, delle creazioni, delle cose che sono di plastica, non erano nemmeno dei gioielli, non lo so, erano dei pocci. Allora, se voi dovete fare il video prendendomi in giro, io oltre a non accettarvelo, non vi accetterò mai più nessun video, sarete squalificate anche da tutti i miei concorsi futuri, perché sinceramente essere presa in giro in questo modo a me non va bene. Quindi la ragazza che sa che ha fatto questa cosa, sappia che può evitare di partecipare ai miei concorsi in futuro, perché io non li accetterò. Io accetto tutto, ma quando poi mi prendete veramente in giro, allora no, proprio non esiste. Scusate lo sfogo, ma mi è stato veramente sulle scatole questa cosa. Ora, spero che seguiate tutte le regole, perché a me dispiace dover rifiutare delle video entry, chiamiamole così, e buona fortuna a tutte. Ciao!